Ciao 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 Sia Carlo Ferrario Che Paolo Amedeo Proprio qui perché lui è la Sono veramente Hanno fatto un lavoro Tutti e due Straordinario veramente Tanta tanta roba Noi andremo velocemente A parlarvi di un Possibile Sblocco di Politano Al Napoli Al Napoli praticamente Perché arriverebbe Varegini E quindi potrebbe Potrebbe essere Preto Al Napoli L'ultima ora della giornata Non c'è Non va Rigoni al Palmo Praticamente Resta Cofia Resta Cofia Ora Velocemente L'ultima L'ultima Trattativa In amico Anziamo Sul nostro Blog No Siamo sul Rimaniamo Le notizie Ve le Vi diremo Gli affari Ufficiali Saremo Ponte Ascriviti Sul blog V Ponte Scapando Ponte 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 Domani Perché domani Avremo la certezza Di tutte le ufficialità Quindi qualcuno che fa La diretta Fa video online Perché C'è 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 Tanto Tanto Calcio C'è Tantissimo Calcio In realtà Quindi deve Continuare a fare Qualcosa di più Allora Allora Velocissime Ultime Trattive Calcio Mercato Stiamo Dando Tantissime Tantissime Quindi Allora Velocissime Eccole qui Le ultimissime 22 32 Velocissime Politano C'è stata C'è stata C'è stata C'è una lotta Contro il tempo La verità Lotta 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 Forte Contro il tempo Verità Andiamo a vedere Una lotta Velocissima Contro il Il tempo Veramente Perché Perché devo dire La verità Una lotta Contro il tempo Perché veramente Il calcio Mercato Non tende Di stupirci Il calcio Mercato Allora Noi Siamo In Diretta Per Parlarvi Dell'ultima Parte Di sessione Del Calcio Mercato In realtà Tra pochissimo Saremo Vi potremmo Dire Qualcosina Anche di più Altri A questi Altri E altri Movimenti Pausa Per noi Torniamo Tra poco Ciao Sono Nicola Galloro E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao Sono Davide Terraneo E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao Sono Francesco Acchiardi Anch'io Ascolto Tutti I giorni Radio Inizia Il campionato Ciao Ciao a tutti Sono Antone Fioretto E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Il campionato Ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Allora, questo calciomercato è molto interessante perché le calciomercate sbloccano all'ultima mezz'ora e si è sbloccato proprio il giocatore del Sassuolo che era tanto atteso. Che cosa ti aspettavi, tu che sei molto a Juventus da vicino, che calciatore doveva prendere? Chi calciatore? Scusa, non l'ho capito. Chiedo scusa che c'è un po' di confusione. Allora, dato che il Napoli ha preso Saprendenio Extremis Politano, tu dalla Juventus ti aspettavi che faceva un calciomercato migliore di quello che ha fatto? Allora, cominciamo a dire che il Napoli ancora non ha preso politano e per voce del direttore sportivo del Sassuolo sembra che la trattativa possa non andare in porto. Poi si sa, il calciomercato è tutto e il contrario di tutto. Almeno circa due ore fa il direttore sportivo del Sassuolo ha detto no, assolutamente non se ne parla. Quindi la trattativa potrebbe non andare in porto. Per quanto riguarda la Juventus, posso dire che la Juve normalmente nella sua storia non è mai stata una squadra che è andata sul calciomercato nella sessione invernale. E gli affari importanti li ha sempre fatti nella sessione estiva. Quest'anno è stata molto vicina dal concludere e proprio addirittura con Politano, lo stesso giocatore che adesso sembra poter vestire la maglia del Napoli per un problema che è avvenuto negli ultimi giorni a causa dell'infortunio e poi quindi dell'intervento per pubalgia per quanto riguarda Quadrado. Ma per voce di alleghi ha detto no, assolutamente noi rimaniamo così come siamo. In realtà la Juve non prenderà nessuno e questo mi sembra una cosa già abbastanza palese. È un calciomercato che la Juve non aveva bisogno di prendere grandi giocatori perché comunque è un parco giocatore interessante e poi una panchina molto molto ricca. È la panchina che potrebbe decretare forse la fine di questo campionato a differenza del Napoli, il quale Napoli sappiamo molto bene che è una squadra forte, merita la prima posizione. Ma la Juventus però è una panchina che gli permette di poter fare la differenza. Allora Marco, ti diciamo che la porta l'hanno chiusa con 8 secondi di ritardo, quindi ha già scattato le 23 con 8 secondi di ritardo, hanno chiuso la porta, quindi hanno lasciato a qualcuno che si fiondava alle 23 in punto di entrare. Sì, insomma questo qua adesso sai succedono sempre queste cose nel calciomercato, dovremmo vedere se la domanda era riferita ancora a Politano, se ho capito bene. Chiedo scusa perché c'è una confusione infernale, si fa una fatica pazzesca a sentire se era riferita a Politano. Però mi sembra che al momento non ci siano in estremis conclusioni per questa operazione. Non so se magari lì voi avete un televideo che arriva prima la notizia, prima di me, allora in quel caso mi arrendo e dico va bene, si vede che qualcuno mi è scappato, è entrato dentro e ha concluso. Ma non so se la tua domanda era riferita a questa. No, era riferita a Politano ma non l'hanno fatta in tempo e poi hanno chiuso la porta con 8 secondi di ritardo, quindi hanno già scattato alle 23, quindi hanno pure sbagliato tutti i tempi. E allora perfetto perché comunque va a confermare quello che io già da un paio d'ore sapevo, che l'operatore, il direttore sportivo del suo suolo, aveva dato proprio il veto assoluto a Politano, no a Napoli. Quindi è un'operazione, dobbiamo dire che il Napoli quest'anno Verdi e Politano ha ricevuto molti no, chiaramente adesso ci sarà anche da parlare, da riflettere, da pensare come mai è avvenuto questo. Però insomma il fatto sta che il Napoli non è riuscito a prendere uno dei due giocatori, addirittura li voleva prendere entrambi, ma uno dei due giocatori non è riuscito ad indossare la maglia del Napoli. Dunque rimane tutto così com'era e ovviamente ci apprestiamo a questo punto a vivere un campionato con un Napoli che non si è rinforzato, con una Juventus che già è forte di suo e che tra un mese, non sono i tre mesi che si era paventato, i tre mesi di quadrato, in realtà la Juventus ha una panchina che si può permettere comunque di poter finire questo campionato, inclusa anche la Coppa dei Campioni e Coppa Italia. Ricordiamo che la Juventus deve giocare un'altra partita con l'Atalanta, dopo ieri averla battuta 1-0. A Bergamo deve giocare la partita finale, se passerà ovviamente nel turno successivo con i bergamaschi. Insomma è un calcio a mercato che si è concluso senza colpi di scena particolari, senza botti vari, insomma era nell'aria che le cose potessero finire in questo modo. Io ti chiedo una cosa, raccontaci com'è l'atmosfera lì, essere proprio lì al Melia Hotel? Ma guarda, è l'atmosfera di sempre, c'è tanta confusione, tanta gente, tante persone che cercano con lo sguardo l'approvazione di qualche altro collega, nella speranza di poter carpire qualche notizia, ma comunque dobbiamo dire che sono le ore 23, quindi i giochi sono finiti, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, come si dice a Napoli, e quindi adesso rimangono tutti quanti qui in attesa ovviamente dei commenti del dopo calciomercato. Tutte le postazioni Rai, Sky e tutte le altre emittenti più o meno importanti hanno gli ospiti per commentare questo finale. C'è molta confusione all'interno dell'Hotel Melia, nella hall dell'Hotel Melia, ma d'altronde se non fosse così non sarebbe calciomercato, questo è ovvio. Però c'è una differenza che tra la sessione invernale e quella estiva, indubbiamente quella estiva c'è molta più gente, ma oggi comunque tuttavia non è che si scherzi. Allora, voglio ricordare ai radioascoltatori dove ti possiamo ascoltare e vedere. Certo, allora, intanto cominciamo radio in radio, venerdì, l'appuntamento è Like Radio Music & Passion, è una radio web come la vostra, e c'è Signora Mia, l'appuntamento dalle 21 alle 23 ogni venerdì, Like Radio Music & Passion, si può scaricare anche l'applicazione. Mentre invece il giovedì, praticamente domani, mi recherò a Torino per il consueto appuntamento con tutti i tifosi della Juventus per Forza Juve da Rete 7, Rete 7 che si può vedere attraverso Sky 825 in diretta a YouTube e poi www.retesetteconnumero.it per quanto riguarda lo streaming. Insomma, ci potete seguire col entieri, insomma, sono molti quelli che ci seguono ormai da anni, sono sette anni di Forza Juve e quindi già di perseguire un altro record. Grazie Marco per essere stato con noi e per averci fatto questo grandissimo, immenso piacere di essere stato qui per l'ultima parte. Grazie, un piacere mio. Grazie. Un piacere mio. Un abbraccio a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao. E allora, siamo stati in diretta con il collega Marco Venditti, che era lì per l'ultima sessione di Calciomercato. Adesso, noi adesso, dobbiamo andare ancora in pausa perché abbiamo avuto questo ospite, perché stiamo per parlare velocemente del, dobbiamo, non velocemente, di farvi l'adesso esce il pagellone ufficiale di Radio Inizio e Camera del Direttore, qui, che vi sta parlando, e vi darà i voti, i voti e finali, così capirete tutto quanto. Tra poco. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre, Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Nicola. Non è mai andato in testa in Serie A nella classifica generale, lui è andato nella classifica del nostro pagellone. Dieci, Benevento, dieci. Il Genoa che si ferma, peccato, a nove e mezzo per alcuni acquisti non concluso ultimamente. Poi, poi andiamo a otto, a otto di dire la verità, perché nove non è che si è meritato nessuno. Allora, andiamo a otto con la Fiorentina, Spal e Basso. Fiorentina e Spal sono andate a otto punti, ma non è che secondo me hanno fatto discreto mercato queste due squadre. La Spal e si è un po' rinforzata di più, ha preso qualche colpa anche oggi pomeriggio, però molti colpi li fanno nella Serie B queste squadre, sia Benento che Spal. Per Benento ha preso dei giocatori per rinforzare la squadra, è un rinforzo, sono assicurati di rinforzi. Adesso però ci sono dei voti, ma voglio dire, dei voti molto, molto bassi. Molto, molto, dei voti 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 molto, molto bassi. Voti che veramente hanno. Grazie a tutti. 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 Noi dobbiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.